Il metodo della co-creazione parte da un presupposto di una fiducia reciproca e dal fatto di voler uscire da delle zone di comfort e quindi sono strumenti assolutamente efficaci per dei partenariati che devono in qualche modo crescere e strutturarsi in maniera stabile e continuativa. È un metodo molto interessante per cercare di raccogliere le risorse e anche le esigenze dal territorio. Per noi è un'opportunità innanzitutto di conoscere meglio i territori su cui andrà a insistere questo progetto, su cui sta insistendo questo progetto, perché è un progetto in corso, ed è un modo anche per approcciare l'attività in una maniera particolare, non calata dall'alto, ma cercando di far emergere dal territorio i bisogni che noi cercheremo di soddisfare e cercheremo di intercettare. Co-creare significa far partire davvero delle esperienze dal territorio e l'innovazione sociale che si declina, per esempio, nell'agricoltura sociale è esattamente questo. Allora, io ho trovato molto interessante, perché erano un'applicazione molto adattato ai dei bisogni che abbiamo avuto nel territorio, e che ci permetteva di lavorare o in piccola o in piccola, o in piccola, in piccola e in piccola, in piccola, in piccola, in piccola e meno per lavorare con piccola, in piccola, in piccola, in piccola, in piccola, in piccola. È stata l'occasione per noi di metterci in gioco, di sperimentare una metodologia che personalmente non avevo mai provato e che tenterò di replicare all'interno del mio ente perché ritengo che sia il modo migliore per far emergere tante idee da tante persone diverse e soprattutto per coinvolgere tutti i portatori di interesse, affinché la decisione non venga calata dall'alto, ma sia davvero un processo partecipativo.